Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Amore, psiche, Dio. Ma che strana Trinità. Vediamo un pochettino in che consiste questo filmato, vediamo un po'. Il grandissimo scrittore dell'antica Roma, Apuleio, aveva scritto quel famoso romanzo che sono Le Metamorfosi, ovvero l'asino d'oro. Capolavoro, capolavoro meraviglioso. E sembra anche che sia questo romanzo l'unico della letteratura latina che ci sia pervenuto nella sua interezza. Interpolato nel romanzo c'è la famosa fiaba di amore e psiche. Amore e psiche. La fanciulla psiche che è, cioè il Dio amore, Eros, Eros, si innamora della fanciulla, della terrestre psiche e tutte le notti entra nel buio, entra nel buio, nella camera della fanciulla, giace con lei, fa l'amore con lei, però le dice «cara fanciulla psiche, io, Eros, io, amore, starò con te tutte le notti perché tu mi piaci, però tu non mi devi mai vedere, non devi mai guardare il mio volto». Così passano notti, tante, tante, tante notti felici d'amore. Però la fanciulla psiche a un certo punto vuol vederlo, il suo amante, e mentre l'amante dorme, accende una candela, accende una candela e avvicina la candela al corpo di Eros, di amore. e mentre la fanciulla psiche osserva le fattezze del suo amante di nome Eros, o amore, che non Dio, una goccia incandescente di cera cade sul corpo di Eros, di amore, il quale si sveglia e visto che psiche aveva violato il patto, torna sull'Olimpo e non si degna più di ritornare dalla fanciulla. La fanciulla disperata poi avrà delle peripezie incredibili. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore è un fiore delicato e va trattato come un fiore. Per esempio, l'amore non vuole la luce, la luce, forse neanche le tenebre, ma vuole la penombra. Vuole la penombra, vuole in un certo senso anche la solitudine. Non deve essere cantato un amore. Un amore non vuole né il clamore, non vuole le luci della ribalta. È qualcosa che vive in un profondo raccoglimento, quasi come una Edelweiss, che cresce nelle solitudini dell'alta montagna. E Dio? E Dio che c'entra? Beh, Dio! Dio è come Eros, come amore. Lui ci ama, ma non si fa vedere. Non si fa vedere. Dio è tanto da noi amato perché non si fa vedere. La differenza però tra la fiaba e il nostro amore per Dio è che mentre Psyche aveva la facoltà di violarlo il patto, cioè di accendere una candela e di vedere le fattezze di Eros, di Eros, del suo amante, noi non ce l'abbiamo questa facoltà di accendere una candela e di vedere come è fatto Dio. Cioè da questo punto di vista il Dio è ancora più intelligente di amore di Eros perché non solo lui non si fa vedere ma noi siamo nella condizione di non poterlo vedere e ciò che non si vede ha un fascino meraviglioso per noi perché non ci deluderà mai ciò che non si può vedere non ci deluderà mai. È soltanto quando si entra in contatto nella realtà esistenziale che ci possono essere le delusioni ma con questa realtà tanto decantata che noi non possiamo vedere non possiamo toccare che non vive nella nostra quotidianità nei suoi confronti noi non avremo mai delle delusioni. E questa è la differenza tra il Dio altamente spiritualizzato dei monoteismi dei politeismi delle metafisiche platoniche aristoteliche ottimistiche e amore della fiaba di Apureio amore psiche lo volle vedere la fanciulla psiche lo volle vedere le fattezze del suo amante amore Eros poter farlo poi pagò perché non poter più godere degli abbracci di quel Dio ma noi non possiamo vederlo il nostro Dio non abbiamo questa facoltà di accendere una candela e di far cadere una goccia incandescente sul corpo del nostro Dio che davvero è al di là al di là della nostra portata e non ci deluderà mai non ci deluderà mai perché non fa parte della nostra quotidianità va bene cari amici questa è la potenza del monoteismo una potenza sterminata perché il Dio in cui crediamo non solo non si fa vedere volontariamente ma nemmeno noi abbiamo la facoltà di poterlo vedere per cui non ci deluderà mai non fa parte della nostra miserabile quotidianità grazie cari amici e tanti saluti da Serafino Massimo